Musica Potrebbero svolgersi già il mese prossimo le prove del concorsone del comune annullate in autotutela dall'amministrazione comunale. La Logos PA, la società che ha organizzato i test senza inserire le domande di inglese e informatica previste per legge, annuncia che ripeterà le prove in tempi brevi, non prima di un mese. Non prima di un mese, ma in tempi stretti, si procederà con le nuove prove. Ad annunciarlo, in riferimento al concorsone del comune, è uno dei responsabili della fondazione Logos PA, l'avvocato Roberto Mastrofini. Come si ricorderà qualche giorno fa, nello specifico nel corso del consiglio comunale di venerdì, il comune ha annunciato l'annullamento in autotutela delle prove concorsuali per i profili professionali di istruttore direttivo tecnico ambientale, psicologo, istruttore amministrativo e agente di polizia locale, quelle cioè viziate dalla mancanza delle domande di inglese e di informatica. Nella determinazione, a firma del dirigente Giglio Marrani, si chiedeva inoltre di ripetere, con onere a carico della Logos PA, la società che aveva organizzato i quiz a dicembre scorso, tutte le prove, inserendo le domande assenti e revisionando tutta la banca dati da cui si dovrà attingere in futuro per i quesiti da somministrare. Abbiamo letto della deliberazione, afferma l'avvocato Roberto Mastrofini, ma ancora non ci siamo confrontati con l'amministrazione comunale di Civitavecchia. Purtroppo è avvenuto questo inconveniente, poiché nella fase di organizzazione non avevamo spuntato le domande di inglese e di informatica e quindi il server non ha pescato quelle due tipologie di quiz. È una decisione che ci aspettavamo, eravamo già d'accordo con il Comune per la riorganizzazione delle prove. Il dirigente della Logos PA pensa già al prossimo futuro e alle prove che vanno rimesse in piedi, con tempi che si annunciano ristretti. I nuovi quiz saranno programmati intorno a marzo, anche se c'è un grosso lavoro da fare per organizzare i test con un ampio numero di partecipanti. Abbiamo delle tempistiche da rispettare, spiega Mastrofini, come la pubblicazione della data delle prove, che deve essere comunicata almeno 15 giorni prima, poi bisogna organizzarsi con i PC, le sedie e la sala che ospiterà i candidati. Credo che faremo tutto non prima di un mese, ma in tempi comunque ristretti. Un vero e proprio boom di casi è quello che si è registrato nella giornata di ieri con ben 260 nuovi positivi, numero più alto mai registrato da quando è iniziata la pandemia. Tanti guariti, 65, ma ci sono stati anche tre decessi, uno a Cerveteri e due avvenuti all'ospedale San Paolo. Per questi ultimi si tratta di due anziani della RSA Santa Marinella, un uomo di 80 anni e una donna di 97 anni. Un grande aumento di casi che va in controtendenza, con quanto invece si era registrato negli ultimi giorni, quando si era arrivati a pensare che il picco fosse superato o comunque vicino. Boom di positivi che tiene in affanno l'ospedale San Paolo. C'è attesa di conoscere i dati odierni per capire se quello di ieri è stato un evento eccezionale o se invece le cifre alte sono diventate la nuova normalità. Si avvicinano alla conclusione i saldi di gennaio, ma in città la situazione continua a non essere erosia per i commercianti. Siamo tornati a fare un giro tra i negozi del centro cittadino per ascoltare le loro opinioni sul difficile momento che stanno vivendo, che non dipende esclusivamente dalle restrizioni legate al Covid. Allora, siamo in un altro negozio qui a Via Tragliana, come stanno andando questi saldi? Sì, veramente tutto tutto bene. Ringrazio soprattutto le clienti di Civitavecchia, anche quelle di fuori, perché comunque è grazie a loro se andiamo avanti. Periodo un po' difficile, perché comunque dal punto di vista dei contagi siamo abbastanza alti, però noi andiamo avanti. Mi dicevi che ne ho iniziate abbastanza meglio. Bene, ancora meglio ne ho iniziate i primi giorni. Allora, io per quanto riguarda la mia attività vedo un leggero progresso, soprattutto in questi giorni, perché comunque stanno per finire, quindi è il periodo in cui la gente si attiva e soprattutto prende occasione delle promozioni, perché alla fine... C'è anche la speranza quindi che si possa finire, diciamo così, con un botto finale, come i fogli artificio? Noi ci speriamo, perché cerchiamo una ripresa da parte delle clienti. Cerchiamo una ripresa che sarà difficile, ma noi... Uno ci spera, no? La speranza è dell'ultimo a morire, quindi... Allora, inizialmente sono partiti un po' a rilento, almeno per quanto riguarda me, diciamo. Devo dire che partendo con un saldo al 30%, come sono partita io, il risconto è stato insomma molto, ecco, appunto come dicevo, molto lento. Aumentando lo sconto, con i 50%, diciamo, come si può ben vedere, hanno avuto un ottimo riscontro, ecco. Quindi al momento è abbastanza bene. Quindi c'è anche la speranza che si vada ancora in crescendo, che magari negli ultimi giorni le persone si vogliano affrettare e vengano a fare acquisti? Diciamo che secondo me ha dato più l'idea che maggiore lo sconto e più c'è la possibilità che il cliente acquisti, ecco. Secondo me è più una questione di soldi che di, ecco, quarantene o cose varie. Quindi acquistando a un costo minore la gente spende un pochino di più. Diciamo tutto sommato non ci lamentiamo, anche che stanno, causa Covid, causa, diciamo, tutte queste cose così, forse potevano andare meglio. Però, come ripeto, non ci lamentiamo. Ci sono stati, ecco, i primi giorni c'è stata più confusione e adesso mano a mano comincia a rallentare, come sempre, come funziona per tutti gli anni, ecco. Tornano i tori e le mucche sulla strada delle Molacce. In particolare, i grossi animali sono risaliti dal tratto franato 12 anni fa e mai riparato e solo di recente inserito nel piano triennale delle opere. Come si vede dai video, i bovini camminano tranquillamente sulla strada, al centro della carreggiata, anche perché a protezione del tratto asfaltato ci sono solo piccoli legni e filo. Gli abitanti della zona hanno sollecitato tutte le autorità competenti chiedendo l'installazione di un guardrail, ma nessuno ha risposto. Nel frattempo ci sono grossi rischi per gli automobilisti che all'improvviso, magari dopo una curva, si trovano di fronte animali enormi che incolpevolmente mettono a repentaglio la propria e l'altrui in columità. È stato presentato alla Fondazione Cariciv il nuovo bollettino della società storica Civita Vecchiese. Oggetto dell'opera, un atlante illustrato dedicato ai Monti della Tolfa, che è stato realizzato da Glauco Stracci ed Enrico Ciancarini in collaborazione con la Fondazione Cariciv. Si tratta di un libro dedicato alle bellezze del territorio, con l'obiettivo di farle conoscere a tutti, in particolar modo ai turisti. Ascoltiamo le interviste. Gabriella Sarracco ha presentato un atlante riguardante i Monti della Tolfa anche nel ricordo di Odoardo Toti. Sì, questa mattina abbiamo presentato questo che si chiama Atlante archeologico illustrato dai Monti della Tolfa, ma che poi prende in esame gran parte del nostro territorio. È un atlante molto importante a mio parere perché è corredato da foto. La foto cattura l'interesse delle persone che, avendolo tra le mani, potranno scoprire e conseguentemente andare a vedere di persona questi luoghi meravigliosi che fanno parte del nostro territorio. Cercheremo addirittura, come ho proposto poco fa alla sindaca, di fare un'ulteriore ristampa per metterlo a disposizione di più persone possibili ed anche dei turisti. L'ultima cosa è dedicato a Odoardo Toti. Ci teneva molto. Io, l'ultima volta che ho avuto occasione di essere con lui durante i festeggiamenti del suo compleanno e presentammo l'ultimo bollettino a cui aveva lavorato, parlò proprio di questo atlante. E oggi, ecco, siamo qui a presentarlo, dedicato a Odoardo Toti. Sindaca, un atlante illustrato riguardo ai Monti della Tolfa permette di mostrare questo bellissimo territorio. Sì, un'iniziativa lodevole, importante, ma soprattutto pratica, perché come è scritto per, diciamo, più professionisti, ma anche per gli appassionati, quindi per coloro che avranno veramente un manuale pratico per poter scoprire il nostro territorio. Quindi da parte mia, ovviamente da parte del Comune di Tolfa, che è rappresentato nella copertina, un grande grazie a Glacostracci come autore, alla Società Storica Civita Vecchiese, alla Sovrintendenza e alla Fondazione, che non solo ha contribuito, ma che è sempre promotrice di iniziative che ci permettono di vedere il territorio in maniera integrale e quindi capaci di andare avanti insieme. Noi abbiamo dedicato questo bollettino a Codordo Toti, che ha tanto, tanto lavorato e girato per le zone qui, limitrofe di Ciroecchia, Tolfa, Tarquinia, Santa Marinella. E finalmente abbiamo messo su carta tutti questi posti, perché abbiamo fatto delle schede per ogni sito archeologico del circondario con l'indicazione dell'Istituto Geografico Militare e del GPS, perciò ognuno che voglia utilizzare questo Atlante come sua guida potrà trovare con facilità questi siti archeologici, alcuni ben conosciuti da tutti, altri che sono novità per tante persone, per non gli studiosi. Perciò crediamo di aver fatto un ottimo lavoro per il circondario. Dopo due anni di assenza a causa Covid torna il Palio Marinaro, infatti la Mare Nostrum 2000, organizzatrice del tradizionale evento, annuncia che il 23 e il 24 aprile si svolgerà la manifestazione giunta alla 43esima edizione dedicata ai festeggiamenti di Santa Fermina. Si svolgerà sia il Palio dei Tre Porti, che vedrà sfidarsi Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, che è quello di Santa Fermina, riservato sia ai senior che ai junior, dove si cimenteranno i ragazzi degli istituti scolastici di secondo grado. Come sempre, tantissimi gli eventi a fare da corollario. La Mare Nostrum 2000 informa che sono aperte le iscrizioni nella categoria senior, anche ad equipaggi femminili, maschili e misti, composti da quattro rematori e il timoniere in rappresentanza del proprio rione di appartenenza. Per informazioni si può telefonare a Sandro Calderai al 335 844 4497, ad Antonio Ponzio al 3346963 222 o a Vincenzo Ricotta al 331 1549971 oppure tramite email marenostrum2000chiocciolotmail.it o ancora sulla pagina Facebook Palio Marinaro Civitavecchia. Sono giorni davvero critici quelli che sta vivendo la NC. A causa dell'indisponibilità della piscina del Palagalli, la squadra di Marco Pagliarini e Aurelio Baffetti non si è allenata dieci giorni in vasca e sta svolgendo unicamente sessioni di preparazione atletica sul bordo vasca dell'impianto. Un'atmosfera davvero triste e surreale è quella del Palagalli, che a causa della chiusura è quasi al buio e nel completo silenzio. Si attende di capire cosa succederà per il futuro dello stadio, che avrebbe dovuto riaprire questa settimana ma che evidentemente dovrà ancora attendere. La portata dell'acqua nella piscina è stata ridotta della metà e si attende una fornitura di acqua calda da Enel per poter velocizzare le operazioni di ripresa delle attività. Vi invitiamo a seguirci anche sui nostri profili social Facebook, YouTube e Instagram. Inoltre vi ricordo che l'appuntamento con l'informazione è anche sul sito www.trcgiornale.it Grazie a tutti! Grazie a tutti!